Abbiamo superato l'All-Star Game e di conseguenza siamo nel momento clou della stagione per quanto riguarda la MLB, almeno per quanto riguarda la stagione regolare, perché tra 3 Deadline, che peraltro avverrà oggi a mezzanotte italiana, e classifiche aggiornate e una division clamorosa come l'American League East che ancora regala emozioni e sorprese, la MLB regala sempre argomenti di cui parlare e di conseguenza benvenuti al podcast mensile per quanto riguarda il meraviglioso gioco del baseball in cui faremo un'analisi un po' diverso dal solito, perché è vero che partiremo come al solito dalle classifiche della regular season, aggiungeremo però da questo video in poi anche le classifiche della wildcard per vedere eventualmente un tabellone dei playoff qualora la stagione finisse adesso e visto che siamo appunto in 3 Deadline, ricordo ancora una volta, oggi al 24 italiane ci sarà la chiusura ufficiale in attesa di definire quali altri colpi ci saranno nella notte italiana, una 3 Deadline che per il momento ha definito colpi interessanti ma ci sono ancora nomi in ballo, perché non sappiamo se i Caps accederanno a Wilson Contreras, però è molto probabile, non sappiamo dove andrà o a Juan Soto se verrà su tutti gli Nationals, se Mike Trout e Shoyotani verranno messi in vetro dai disastrosi Los Angeles Angels, sono colpi che ancora potrebbero scoppiare oggi, ci sono stati altri colpi di mercato però molto importanti, ma ne parleremo una volta realizzate alcune squadre per quanto riguarda le 30 franchigie del meraviglioso gioco del baseball, il meraviglioso gioco del baseball che è arrivato di fatto con gli ultimi due mesi di stagione allo sprint finale perché di fatto da agosto in poi ci sono i Dog Days of Summer e dunque le squadre vere che hanno ambizioni possono continuare evidentemente a lottare per i playoff e per farlo devono anche attingere dal mercato di quelle squadre che non hanno molto senso di esistere quantomeno in questa stagione, cosa che non si può dire secondo me per la prima divisione di cui andremo a parlare oggi, ovvero la American League East, il bagno di sangue, ogni anno c'è sempre una divisione che per un motivo o per l'altro è un bagno di sangue, sia per i motivi sbagliati, quindi una divisione a ribasso ma che comunque vede tantissimo equilibrio e tanta competizione dunque ogni partita conta il doppio, stesso discorso per questa American League East dove ogni squadra è addirittura pari o superiore come record al 50% e quindi ogni partita conta anche qui il doppio, avremo tante sorprese che analizzeremo in questa divisione, di certo non sono una sorpresa i New York Yankees perché sappiamo fin dall'inizio stagione di fatto che i Bronx Bombers sono la miglior squadra di questa divisione e hanno anche il miglior record dell'American League con 70 vittorie e 34 sconfitte, hanno ovviamente basato il loro gioco sui fuoricampo e non potrebbe essere altrimenti, hanno però puntellato il reparto esterni con un acquisto interessante perché andiamo subito ad analizzare il primo colpo di questo mercato estivo 2022 per l'MLB ed è Andrew Benintendi che è un giocatore che proviene dai Kansas City Royals, è un esterno, l'avevo visto giocare per anni, appunto all'esterno sinistro, è un acquisto che sull'inizio potrebbe lasciare un po' perplessi perché gli Yankees hanno effettivamente un buonissimo reparto esterni perché basta solo pensare a Judge e Stanton che sono appunto due grandiosi giocatori sia dal punto di vista difensivo sull'esterno sia ovviamente dal punto di vista ovviamente difensivo. È un acquisto quello di Benintendi comunque azzeccato al contesto perché è vero che ci sono Judge e Stanton e anche tutti gli altri esterni ma è altrettanto vero che per via di molto infortunio, soprattutto al 99 e al 27, Benintendi è un acquisto che ci sta ed è un acquisto particolare anche per un altro senso, ovvero la history che ha l'Ital americano perché Benintendi è vero che lei è dai Kansas City Royals dove ha queste statistiche, quindi 311 di media battuta, 3 fuoricampo e 41 RBI ma è un giocatore che intanto ha passato l'inizio della carriera ha imposto Red Sox, gli acerrimi rivali e in più è un battitore che può dare molta continuità dal punto di vista offensivo infatti le medie non sono di un fuoricampista eccesso perché appunto i fuoricampo sono solo 3 ma la media battuta è 311 cosa che negli Yankees ha alta praticamente soltanto DJ Le Maillieu, il seconda base titolare quindi serve un ulteriore giocatore di continuità di contatto che possa mettersi in base presto per poi lasciare la palla ai fuoricampisti della squadra è comunque un acquisto molto interessante e di conseguenza vedremo se sarà importante questo acquisto di Benintendi per arrivare sicuramente ovviamente ai playoff ma per puntare evidentemente alle World Series perché gli Yankees e in dubbio puntino evidentemente a questo obiettivo gli Yankees però non hanno rinforzato soltanto il reparto esterno, rinforzano anche il monte di lancio perché dagli Oakland Athletics è arrivato Frankie Montas che è uno dei pochi che si salva di quello che resta degli Oakland Athletics squadra che è letteralmente in disarmo e sappiamo i nostri problemi della formazione californiana sia per quanto riguarda il monte stipendi sia per quanto riguarda soprattutto la questione stadio che Oakland non vuole costruire e di conseguenza si parla di un rifranchigiamento della formazione degli Athletics anche se si può optare per un altro termine per esempio ricollocare la franchigia fatto sta che Montas è vero che ha un record negativo 4-29 perse ma quello che conta è la media IRA la media punti variato sul lanciatore che è 3-18 molto buona di solito se un lanciatore è tra i 3 e i 3 punti e mezzo concessi a partita è un buonissimo lanciatore se un addirittura sotto i 3 punti concessi a partita siamo veramente nell'elite quindi evidentemente è un acquisto anche questo azzeccato al contatto degli Yankees che rinforzano dunque una razione dei partenti che comunque aveva bisogno secondo me di Frankie Montas viene in realtà rinforzato anche il reparto closer perché sempre da Oakland arriva l'utrivino che appunto era il closer degli Athletics in cambio ovviamente a Oakland sono arrivati dei prospetti futuribili dall'organizzazione degli Yankees appunto a Oakland di fatto 4 dei primi 20 prospetti sono andati in California però va detto che in cambio gli Yankees hanno avuto 2 giocatori da Oakland assolutamente pronti subito e vedremo quale sarà il loro impatto in quel del Bronx seconda formazione classificata nell'American League East sono i Toronto Blue Jays lasciamo perdere evidentemente il distacco dagli Yankees che è di 12 partite ma dobbiamo verificare quello che succede da qui in giù perché il macello di cui parlavo poco fa è assolutamente questo perché i Toronto Blue Jays dopo che hanno licenziato Charlie Montoyo il manager dopo l'inizio di stagione sono un attimo ripresi e sono delle squadre più in forma in generale della Lega perché 8 vinte e 2 perse negli ultimi 10 Striscia perde 2 vinte consecutive e di fatto secondo posto solitario con 57 vinte e 45 perse Toronto appunto sta completando questo percorso di crescita già l'anno scorso abbiamo detto attenzione all'anno prossimo a Toronto l'anno prossimo che è questo quindi il 2022 sta confermando quelle che erano le mie previsioni sulla formazione canadese che dunque in questo momento sarebbe clamorosamente e tranquillamente qualificata ai playoff chi sorprende a un certo punto di vista è Tampa Bay i Rays sono terzi a 54 vinte e 48 perse un record che potrebbe sembrare al di sotto delle aspettative ma va contestualizzato perché sappiamo che i Tampa Bay Rays hanno tipo il record del mondo di giocatori infortunati con l'infortunio che è capitato di recente a Josh Fleming che è uno dei rilievi della scuderia di Kevin Cash sono arrivati addirittura a 16 gli infortuni complessivi dei Tampa Bay Rays che di fatto giocano con la squadra B soprattutto per quanto riguarda il reparto rilievi e nonostante appunto la squadra B con dei giocatori che vengono sempre richiamati dal AAA che vanno un po' avanti e indietro tra il piano di sopra e appunto le leghe minori sono lì lì ampiamente sopra il 50% e in questo momento sarebbero qualificati ai playoff quindi gran lavoro di Tampa Bay che nelle situazioni di emergenza nonostante un periodo di flessione perché siamo a 3 vinte nelle ultime 10 hanno comunque un record importante perché appunto lì garantirebbe i playoff chi sorprende e non poco sono le ultime due squadre della American League East quarti sono i Baltimore Orioles che hanno fatto un mese di luglio spaziale sono veramente riusciti a rimontare tante vede di distacco e sono riusciti ad arrivare addirittura sopra al 50% scavalcando Boston che veramente è un'altra stagione che probabilmente andrà a sud Baltimore è una squadra che in questo momento se la lotta tranquillamente per i playoff anche se è ceduto un pezzo molto importante della sua rosa ma ne parleremo quando arriveremo a chi è arrivato evidentemente in quel pezzo pregiato fatto sta che con un core di lanciatori prevalentemente giovani tranne Jordan Lyles che è abbastanza esperto e in generale appunto una squadra comunque futuribile ma che già adesso sta offrendo prestazioni interessanti soprattutto da Anthony Santander anche Ryan Moncastle hanno richiamato Edry Luchman che però deve ancora un attimo sbocciare insomma Baltimore è una squadra abbiamo già detto anche nelle puntate precedenti del podcast che gli Orioles non sono una squadra trascurabile seppur appunto erano ultimi prima dell'All-Star Game abbiamo lasciati sotto il 50% li ritroviamo adesso a inizio agosto con un record che gli permette di essere in corsa per i playoff è difficile perché c'erano tante squadre da battere però buonissima stagione da parte della formazione di Hyde che si permette il lusso di battere addirittura i Boston Red Sox che erano partiti male a inizio stagione si sono ripresi prima dell'All-Star Game e adesso sono ricrollati piove un po' sul bagnato in realtà per i Boston Red Sox perché aspettavano con ansia il ritorno di Chris Sale che però dopo la prima partita si è rinfurnato di nuovo dunque di conseguenza il 41 non sarà ancora a disposizione per la formazione di Alex Cora che appunto è vero che ha il 50% di vittorie ma è tanto vero che prende praticamente 20 partita degli Yankees qualcosa di inaccettabile per la formazione del Massachusetts che va detto però è in striscia aperta i due vinti di fila certo record negativo nelle ultime dieci però abbiamo visto già e lo vedremo anche quando parleremo delle squadre che hanno acquisito le Boston Red Sox che probabilmente Boston non dico non è una contender ma possiamo fare questo discorso per i Baltimore Orleans tre partite di distanza dalla Wild Card solo gestibili ma ci sono troppe squadre davanti e ne troveremo tante a partire dalle prossime division sicuramente non quelli dell'American League Central o meglio non tutte perché i Minnesota Twins sono primi con 54 vinte e 48 perse che appunto hanno un record abbastanza incredibile perché se noi prendessimo il record dell'American League Central dei Minnesota Twins e lo posporremmo diciamo nel record dell'American League East i Minnesota Twins sarebbero terzi comunque in Wild Card in Playoff e non primi ma perché appunto la division della parte central dell'American League è competitiva per quanto riguarda le prime tre posizioni sorprendono molto i Cleveland Guardians perché 53 vinte e 49 perse con una squadra che non aveva tante ambizioni è comunque una cosa molto interessante perché dà un po' di pepe una division che sembrava destinata al duello tra Minnesota Twins e Chicago White Sox Chicago White Sox che continuano ad essere un po' lì nella terra di nessuno si sono ripresi si va detto dopo un periodo molto infelice del mese passato adesso sono 51-51 50% pulito anche se non è un ambiente felicissimo quello dei White Sox perché Tony La Russa è in concentrazione con i tifosi per scelte abbastanza discutibili su alcune partite perse in volata proprio dai White Sox che erano partiti per dominare questa division come gli anni passati e invece si ritrovano addirittura terzi a rincorrere la Wild Card hanno di fatto lo stesso record dei Boston Red Sox ancora più deludenti appunto secondo me di questa formazione e se dovesse indicare una delusione di questa parte di stagione secondo me nel complesso i White Sox superano addirittura i Red Sox in questa gara a ribasso di formazioni che potevano e dovevano sicuramente far di più non contano in questa division l'American League Center Kansas City e Detroit perché appunto hanno un record perdente è comunque un record dignitoso perché parliamo di 41-20 62 perse per Kansas City 41-63 invece per Detroit non ci sono ambizioni e infatti anche Detroit sarà una delle squadre che insieme a Kansas City venderà uno dei prezzi pergiati alle altre formazioni chi invece ha acquisito tanto dal mercato degli scambi prima dell'Atletedra a Houston perché la formazione di Dusty Baker è non solo prima con 67-37 ma ha approfittato appunto degli esuberi delle cessioni di altre squadre e torniamo a quel discorso che facevo prima con i Baltimore Orioles perché uno degli acquisti più importanti della formazione di Dusty Baker è Trey Mansini uno dei go-to guy dei Baltimore Orioles che comunque ha offerto prestazioni di un certo rilievo e comunque non era uno dei papabili indiziati quantomeno certi della cessione soprattutto adesso che Baltimore stava andando parecchio bene invece nonostante il record positivo evidentemente la dirigenza del Maryland ha deciso diversamente di cedere uno dei pezzi pregiati della sua squadra in modo da ricostruire un core di giovani che sarebbe da unire poi evidentemente a quello che già adesso sta facendo bene per Baltimore le statistiche di Massini sono comunque interessanti perché 10 fuori campo 41 RBI per una media battuta di 268 rendono il prima base ex dei Baltimore Orioles un acquisto assolutamente importante per la formazione di Houston che comunque può riciclarlo anche in esterno Mancini ha giocato appunto in campo esterno può riciclarlo come battitore disegnato è un contributo importante che anche questo dà continuità altro acquisto importante per Houston è Christian Vasquez parlavamo dei boss Red Sox che hanno ceduto dei pezzi importanti appunto Vasquez che era il catcher titolare del Red Sox fino appunto a questa stagione è andato appunto a Houston ed è un acquisto interessante quello di Vasquez perché il numero 7 può dare continuità in attacco ai catcher dei Houston Astros che hanno di base Martin Maldonado che è un signor difensore ma uno scarso attaccante e Jason Castro idem con patate qui invece abbiamo statistiche diverse abbiamo un 282 di media battuta 8 fuori campo e 42 RBI sicuramente sarà un bell'acquisto quello di Vasquez che peraltro è arrivato in una trade a 3 che coinvolge anche gli Tampa Bay Rays e torniamo un attimo indietro perché appunto da Houston si trasferisce Jose Siri giocatore di sistema che appunto entrava come cambio difensivo negli Houston Astros dell'anno scorso va appunto a Tampa Bay non fate caso alle statistiche che sono abbastanza basse perché il 178 di media battuta non è una statistica eccelsa 3 fuori campo di CRBI per il giocatore della Domenica Republic ma attenzione perché sappiamo che Tampa Bay non va spesso sui grandi nomi ma va a scambiare giocatori di sistema che possono inserirsi subito e rendere al meglio quindi chissà che Jose Siri in campo esterno non possa dare non solo qualità difensiva ma anche trasformarsi appunto anche dal punto di vista offensivo che abbiamo visto anche per i giocatori della formazione di Kevin Cash comunque Houston fa degli ottimi acquisti e va a rinforzare appunto già una squadra che comunque non dico che non aveva bisogno però insomma è una squadra progettata per ottobre perché sappiamo che Houston gioca seriamente da ottobre in poi adesso Houston praticamente dietro abbiamo i sorprendenti Seattle Mariners che non solo possono contare su uno Julio Rodriguez in stato di grazia perché da quando è arrivato ha dimostrato statistiche e numeri che veramente fanno impallidire l'elite dell'MLB attuale e quindi non solo il preso di Julio Rodriguez ma anche la continuità dovuta alle gambe degli Stati Uniti soprattutto dell'anno scorso rendono Seattle una vera e propria contender anche qui come abbiamo fatto per l'American League East non guardiamo il record rispetto alla prima della classifica perché sono 12 partite di distacco rispetto alle Houston Astros ma Seattle sarebbe in piena qualificazione ai playoff e per centellinare per suggellare questa qualificazione Seattle ha operato un colpo di mercato parecchio interessante perché sul monte di lancio a rinforzare la protezione della formazione dello stato di Washington arriva Luis Castillo altro dominicano che viene dai sensi da tirezza squadra che non ha niente da chiedere in questa stagione Castillo è uno dei pezzi i pregiati della formazione dell'Ohio infatti lo vediamo dalle statistiche 4-20 4 perse 2-86 di media quindi pochissimo quindi il problema dei Houston Astros era evidentemente l'attacco perché con una media del genere ci aspetta che il lanciatore vinca molte più partite soprattutto dal proprio attacco non è stato così in Ohio potrebbe essere così appunto a Seattle perché l'attacco dei Mariners è molto interessante non c'è solo Julio Rodriguez abbiamo anche Ty France abbiamo anche JP Crawford abbiamo altri giocatori che non sto qui a menzionare ma che comunque fanno di Seattle una squadra che non ha dei nomi incredibili ma anche qui letteralmente un core un gruppo che possono competere assolutamente ai playoff l'anno scorso l'hanno mancati per una partita soltanto piuttosto sono pure i playoff allargati e quindi Seattle è assolutamente in piena corsa ottimo acquisto quello di Luis Castillo che va a rinforzare una rotazione che comunque è interessante il go to guy va detto è Logan Gilbert ma non solo c'è anche Chris Flexen ci sono un sacco di altri giocatori che possono rendere la vita difficile alle squadre avversarie e Castillo è evidente che adesso sarà lui la punta di diamante della rotazione A5 della formazione di Scott Servais terzi classificati nell'American League West sono i Texas Rangers che erano partiti malissimo alla fine si risollevano complici anche in realtà i meriti degli Rangers sono anche loro una squadra a terra di nessuno va detto però che appunto la formazione di Corey Seager e i compagni non ha predisposto la stagione per quest'anno ma è evidentemente da partire dal 2023 Texas ha investito tantissimo nella off-season in particolare appunto sappiamo che hanno preso Corey Seager con un contatto di 10 anni ma hanno preso anche Marcus Steven dai Toronto Blue Jays con un altro super contratto Texas alla fine è 46-56 è una squadra interessante che ripeto non è per quest'anno ma attenzione ai Rangers negli anni a venire sono fuori venendo dalla contesa i Los Angeles Angels o Vanaheim e gli Oakland Athletics per i motivi di cui sopra ancora una volta Los Angeles Angels non pervenuti nonostante avessero comunque fatto una partenza molto interessante nei primi due mesi di stagione alla fine hanno pagato il fatto di avere un organico più carente rispetto anche addirittura a Texas sulla carta è qualcosa di clamoroso perché secondo me Texas è inferiore a Los Angeles dal punto di vista del Montesalari dei nomi a roster e di tanti altri aspetti ovviamente il baseball è un gioco che appunto fa parlare il campo e il campo e gli Angels hanno dimostrato di essere inferiori rispetto ai Rangers 43-59 per la squadra di Showtime e Mike Trout che non sappiamo a oggi se verranno ceduti la vedo difficile secondo me è più una transazione da off-season però ovviamente secondo me il meraviglioso gioco del baseball regala cose particolari vedi per esempio quello che è successo nello scorso anno con la rivoluzione di Washington e Chicago Sponda Cups ultimi gli Oakland Atele in questa division dell'American League West con 39 vinte sotto 5 perse abbiamo già detto più e più volte dei problemi di Oakland che già hanno fatto un mercato invernale se possiamo chiamarlo così disastroso o meglio svendendo la gente soprattutto New York Mets e adesso ha ulteriormente ceduto pezzi pregiati in attesa di capire il futuro della formazione attualmente in California passiamo adesso all'altra lega da analizzare quella appunto che fino all'anno scorso era il lanciatore che batteva ovvero la National League e torniamo a est torniamo in una division che comunque si è equilibrata in un duello a due tra New York Mets e gli Atlanta Braves i New York Mets sono comunque ancora una volta primi costata 5-20 37 perse peraltro notizie di oggi oggi torna Jacob DeGrom dopo di fatto sei mesi di infortunio e quindi attenzione per la seconda parte di stagione dei New York Mets vedremo come appunto lancerà DeGrom oggi contro appunto i Nationals dietro però abbiamo gli Atlanta Braves con 62 vinte e 41 perse ed è di Atlanta che andiamo a parlare perché è stato fatto un colpo di mercato a mio avviso parecchio interessante ed è quello di Robbie Grossman parlavamo di squadre che non avevano niente da chiedere a questo campionato Robbie Grossman giocava a Detroit e dunque la formazione del Michigan ha scelto di cedere uno dei giocatori comunque di sistema della sua franchigia appunto a una contender Atlanta è campione in carica e deve rinforzare appunto anche qui un reparto esterno che l'anno scorso ha fondato tanto bene perché sappiamo che Atlanta ha vinto il titolo partendo dalla rifondazione del reparto esterno Robbie Grossman gioca tendenzialmente a destra che sarebbe il ruolo di Ronald Acuna Jr ma sappiamo che Acuna Jr è fragile fisicamente che non gioca a tutte le partite presumo che Sneaker lo voglia gestire un po' e dunque serve un giocatore di sistema che non ha delle statistiche clamorose perché parliamo di 205 di media battuta 2 fuoricampo e 23 RBI però Grossman è un acquisto assolutamente interessante è uno di utility player che può giocare dovunque acquisto per la panchina mi verrebbe da dire perché sarà un altro termine sportivo ma che può essere molto molto utile peraltro la 3D è consumata anche con una grande estensione perché uno dei giocatori più fuori della squadra ovvero Austin Riley nel terzo avanti sono appena rifirmato per 10 anni e dunque abbiamo capito da chi ripartirà evidentemente Atalanta qualora poi dovesse fallire la campagna playoff di quest'anno il distacco al momento rispetto ai New York Mets di sole tre partite e mezzo e dico sole perché sulla carta New York Mets dovevano dominare questa division ma anche qui sappiamo che il baseball è uno sport molto strano e che non spesso i più forti vincono e infatti la divisione è altamente competitiva per la qualificazione dietro abbiamo i Philadelphia Phillies che sono sopra il 50% comodamente anche se hanno un record al momento che non li qualificherebbe di giustezza ai playoff o quantomeno li permetterebbe di lottarsela con altre squadre della centrale della West Division Philadelphia ha effettuato dei colpi interessanti in off-season al momento non abbiamo ancora notizie per quanto riguarda la Teldin comunque buonissimo record 55-20 e 47 perse per la formazione di Bryce Harper e compagni i Miami Marlins che invece non cederanno a quanto pare i loro pezzi pregiati a oggi sono quarti a 47-50 e 56 perse ma anche qui Miami è una buona squadra parecchio futuribile non per quest'anno ma per il prossimo un po' come i Texas Rangers a differenza dei Texas Rangers i Miami Marlins gioca in una divisione molto più competitiva della American League West la National League East sappiamo che è sempre stato un bagno di sangue più per le statistiche al ribasso che per verso l'alto però attenzione comunque alla formazione che gioca al Marlins Park ultimi sono i Washington Nationals che sono appunto l'oggetto del desiderio di molte squadre per quanto riguarda la cessione di Juan Soto che a oggi non è stato ancora ceduto sappiamo che Juan Soto ha rifiutato un'opzione di 10 anni di contratto a 450 milioni di dollari lui ha dichiarato che ne voleva 500 è ovvio che sia un rifiuto per avere un'asta al rialzo per la threat deadline ora le squadre che possono permettersi Soto a queste cifre sono pochissime sono quelle che possono spendere di più quindi i vari New York Yankees che in realtà hanno preso benintendi quindi sono tagliati fuori si parla io speravo Houston perché è una squadra dell'American League contender ma alla fine Houston forse non lo prenderà i Mets potrebbero spendere ma Washington non potrebbero mai cederlo non lo vorrebbero fare quanto meno nelle lette di Wild Division è possibile anche qualche sotto se è un colpo per l'offseason 2023 chi lo sa lo staremo a verificare ovviamente qualora poi ci fossero dei colpi che non sono stati in questo video nel primo commento di questo video avremo gli aggiornamenti sappiamo appunto che la deadline è oggi a mezzanotte e Milwaukee Brewers sono invece primi per quanto riguarda l'altra division la National League Central con 57 vinte e 45 perse dietro ci sono il Central East Cardinals con 54-48 anche qui sappiamo perfettamente che ormai la divisione è bella che chiusa in un duello tra appunto i Brewers e i Cardinals Brewers che hanno fatto una cessione clamorosa di mercato ma ne parleremo alla fine perché a oggi quello che hanno fatto i Brewers è il bombone di mercato per eccellenza in attesa dei nomi che vi ho detto prima i Central East Cardinals invece sono secondi con appunto tre partite di differenza rispetto ai Brewers e si sono rinforzati perché da Pittsburgh è arrivato Jose Quintana che è uno dei grandi veterani del meraviglioso gioco del baseball Quintana appunto ha giocato prevalentemente ai Caps a Oakland appunto a Pittsburgh ultima squadra e adesso ai Cardinals per rinforzare una rotazione che è fatta prevalentemente di giovani ma che comunque con l'esperienza di Quintana può dare secondo me a quel stato di qualità in più è un'ottima addizione per appunto la formazione del Missouri terzi sono i Chicago Caps che anche loro devono ancora scegliere cosa fare con Wilson Contreras che è l'unico rimasto della cavalcata vincita nel 2016 per ora li ha ceduti tutti nella scorsa stagione Contreras oggi è ancora rimasto lì vedremo se anche lui verrà ceduto si sono dette tante voci sul catcher venezuelano che ogni partita che giocava a Wrigley Field si scoppiava il lacrime perché era consapevole che probabilmente fosse anche lui a punto indirittura di partenza che fossero le ultime partite giocate a Wrigley Field a oggi non abbiamo notizie e vedremo anche qui nella Deadland di stanotte quarti sono i sensonati Rez 41-20 61 perse ultimi i baseball pirates 40-62 alla fine è una lotta per la terza posizione che può essere interessante ma direi che è sufficientemente platonica ultima divisione che analizziamo come al solito è la National League West dove appunto i Los Angeles Dodgers hanno messo la quinta e hanno superato la concorrenza 69-20 33 perse per la formazione di Dave Roberts dietro abbiamo i San Diego Padres e ci soffermiamo tanto i San Diego Padres 58-46 ma appunto come accennavo prima il bombone di mercato non hanno piazzato esattamente i Padres perché da Milwaukee è arrivato il closer più devastante degli ultimi anni ovvero il classe 94 del Maryland Josh Hader veramente un colpo fantascientifico mi verrebbe da dire per i San Diego Padres che è vero vanno a rinforzare un reparto rilievi che non è granché però con questa addizione si garantiscono secondo me veramente il carico da 11 l'asso del monte dei lanci per quanto riguarda il closer ovvero colui che va a chiudere le partite quando la squadra è una squadra di vantaggio di 3 o meno punti e Hader era partito da Dio nelle prime stagioni poi è andato calando perché le azizie non sono granché una vinta e 4 perse 4 e 24 di IRA però 29 salvezzi sono molto importanti Hader è calato un po' è uno scambio che è lasciato abbastanza perplesso ne parlavo con l'hab di MLB Italia su Instagram in privato e eravamo un po' interdetti sul perché Milwaukee che è prima della sua division cede Hader ai Padres che ok sono in lotta per i playoff ma comunque sono un livello leggermente inferiore a oggi rispetto ai Brewers e il motivo è molto semplice Hader non voleva rinnovare il contratto che era in scadenza quest'anno e per evitare di mandarlo appunto in fregesi e perderlo a zero alla fine Hader è stato mandato a San Diego in cambio di prospetti e di un giocatore che comunque prenderà il suo posto perché di fatto i Brewers e i Padres hanno effettuato uno scambio di closer a Milwaukee appunto arriva Taylor Rogers che appunto ha queste statistiche 28 salvezze una vittoria 5 sconflitta 4.5 di media ieri sono statistiche simili va detto alla fine rispetto a Hader certo Rogers come qualità dal punto di vista del closer è inferiore a Hader ma comunque è un giocatore che appunto può rappresentare uno scambio alla pari appunto con San Diego dal punto di vista del ruolo del closer ovviamente con le prestazioni io ho avuto tutta la vita a Hader e piuttosto di aver rinnovato a fanta milioni di dollari evidentemente non hanno trovato l'accordo Hader e la dirigenza dei Brewers e quindi scambio con appunto coinvolti anche altri giocatori prevalentemente prospetti che vedremo anche qui per il futuro dei Brewers comunque incredibile ripeto Hader ai Padres non l'avrei mai detto si è spiegato appunto perché Hader non voleva rinnovare il contratto con i Brewers certo non era nelle prestazioni migliori ultimamente Hader perché è calato tanto come rendimento ha perso tante partite consecutive ha perso anche delle salvezze però rimane veramente un giocatore su cui fare affidamento su cui uno può fondare evidentemente secondo me addirittura la franchigia scambio pazzesco colpo di mercato a oggi per eccellenza 2022 Hader ai Padres senza se e senza ma se poi dopo stanotte vengono seduti tra auto Tani e Soto allora evidentemente sarà quello il colpo dell'anno 2022 ma oggi il 71 ha appunto ai Padres veramente bombone pazzesco di mercato per una San Diego che appunto è comoda al momento in settore dei playoff ma appunto tra poco vedremo le classifiche come sarebbero gli accopimenti del tabellone terzi sono i San Francisco Giants che stanno rimbalzando un po' all'indietro rispetto alla stagione fantastica che fecero lo scorso anno ricordiamo che i Giants lo scorso vinsero con 107 vittorie qualcosa di clamoroso la National League West e adesso sono 51 viti 52 persi addirittura sotto il 50% staccati un bel po' anche dalla wildcard al sesto posto utile per i playoff vedremo se ci saranno delle acquisizioni per ritornare un attimo in auge e permettere ai Giants una rincorsa che avrebbe del clamoroso ultimi anche qui abbiamo squadre che non hanno senso di esistere sportivamente parlando in questa stagione ovvero i Colorado Rockies di Chris Bryant con 46-20-58 persi sono un po' della terra di nessuno sia per loro che per quelli dietro perché abbiamo gli Arizona D-Bex con 45-20-57 persi queste squadre evidentemente non hanno evidentemente molto da dire peraltro i D-Bex hanno ceduto David Peralta che è uno degli esterni e dei giocatori più rappresentativi e più forti appunto della formazione dello stato che è a capitale Phoenix è in dubbio che Arizona continui la ricostruzione anche se al momento si fa abbastanza pratica a intravederla chiudiamo la review di questo mese con le classifiche dei chiudiamo la review di questo mese con la classifica dei playoff qualora finissero oggi questa che vedete è la situazione a oggi quindi in alto le tre qualificate per ogni divisione e dietro appunto chi si qualificherebbe tramite la wildcard io poi vi darò anche una mano nello spiegare come funziona il tabellone playoff se finisse così comunque ci sono tante squadre coinvolte in questa lotta wildcard al netto che sappiamo che se finisse così in American League si qualificherebbero i New York Yankees come vincitrice di divisione meglio record i Houston Astros come vincitori dell'American League West e i Minnesota Twins come vincitori dell'American League Central mentre in wildcard passerebbero Toronto Tampa Bay dall'American League East e i Seattle Mariners nell'American League West appena fuori sarebbero i Cleveland Indians scusatemi Cleveland Guardians faccio ripeto una fatica a chiamarli Guardians a una partita di distacco dalla wildcard di Seattle i Baltimore Orioles due e mezzo Boston Red Sox e Chicago White Sox a tre da Texas in giù probabilmente sono tutte tagliate fuori quindi lotta praticamente a 6-7 squadre che comunque è molto interessante quindi attenzione a queste formazioni che ho citato perché può capitare veramente di ogni se finisse invece così in questa diciamo appunto classifica il tabellone reciterebbe che al primo turno si sfiderebbero la terza quindi Minnesota contro la sesta classificata ovvero i Seattle Mariners mentre ci sarebbe lo scontro fratricida diciamo dell'American League East tra Toronto e Tampa Bay in una serie che ricordiamo sarà al meglio delle tre partite mentre Yankees e Houston in quanto vincitori di division ma con record migliore avrebbero un buy per il successivo che appunto è alle 5 partite vediamo come sarebbe la situazione in American o meglio scattime in National League come division leaders sarebbero qualificati i Los Angeles Dodgers e i New York Mets e non potrebbe chiestere altrimenti perché sono loro le formazioni migliori di questa Lega e avrebbero appunto il buy al secondo turno Milwaukee sarebbe qualificata come vincitrice di division ma andrebbe a sfronteggiare il primo turno a meglio delle tre partite contro Philadelphia a sesta qualificata tramite Boycarsi finisse così mentre ci sarebbe un incredibile scontro a 30 San Diego per quanto riguarda appunto da una parte la National League East e i campioni in carica e dall'altra parte la National League West attenzione perché qui la lotta sembra leggermente più delineata perché le squadre coinvolte possono essere le 5 che arrivano fino a San Francisco perché c'è San Luis a una partita da Philadelphia e San Francisco a 4 e mezzo da Miami in giù sono tutte evidentemente fuori è una lotta interessante è molto più bella evidentemente la lotta per l'American League i National League sembrano già più definiti i valori in campo ma chissà che non si possa assistere alle remote da lontano anche se vedo dura che Colorado Miami, Arizona e così via possano arrivare direttamente ai playoff sarà interessante vedere cosa faranno i White Sox i Red Sox i Baltimore Orioles e tutte le squadre coinvolti invece nella American League intanto questa situazione per quanto riguarda il recap di agosto in attesa della Trededal di stanotte a mezzanotte che definirà evidentemente se ci sono stati anche altri colpi di mercato che per il momento incoronano Josh Shader ai Padres come colpo assoluto della Trededal 2022 questo è il podcast dunque per quanto riguarda il meraviglioso gioco del baseball i prossimi appuntamenti sul canale sportivo saranno questa domenica per quanto riguarda la MotoGP che ritorna a correre a Silverstone fatevi un secondo e pensate di questo video per la vostra squadra preferita come vedete questa Trededal 2022 e saluto da parte di me di Thorgaard ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti